Ciao a tutti, sono Matteo Dallanesh e oggi vi presento la Double Top Apex, un posto con camera interna già incorporata. La particolarità di questa tenda è soprattutto il suo telo. Come potete vedere è elastico, si adatta ad ogni condizione climatica, quindi elimina la condensa e la possibilità di comprare un sovratelo aggiuntivo è eliminata anche quella perché questo qui essendo termico trattiene calore, c'è fresco in estate. Infatti è un telo che usano anche molti eserciti nell'ambito militare. Estetica è molto accattivante perché oltre alla particolarità di questo telo nella sua colorazione, ha anche il logo sia nelle finestre sia anche nel posteriore perché il posteriore si apre e quindi questa qui è una tenda che può diventare anche zanzariera sia nel davanti sia nel di dietro, quindi massima reazione in estate. Double Top Apex Nesh.